abbiamo fatto 30 facciamo festa festeggia con noi i nostri 30 anni e partecipa al concorso dal 15 aprile al 12 maggio ogni 20 euro di spesa riceverai un cancella e vinci cancella il primo tondino quello sulla sinistra potrai partecipare all'instant win di 30 mila prodotti a marchio hard 3000 buoni spesa da 20 euro 300 buoni spesa da 50 euro 30 buoni spesa da 100 euro cancella il secondo tondino e scansione il qr code all'interno dell'app hard nella sezione concorso potrai partecipare all'estrazione per vincere una delle dieci crociere per due persone abbiamo fatto 30 facciamo che vinci